Un nuovo strumento per migliorare i servizi offerti ai pazienti dell'ospedale San Benedetto di Alatri. E' arrivato infatti un nuovo ecografo che è stato donato da un istituto di credito al reparto di nefrologia. La cerimonia di consegna c'è stata la presenza del direttore generale della ASL, il generale Suppa, di tutti i responsabili del nosocomio e del vescovo della diocesi di Anagni ed Alatri, Monsignor Loppa. L'apparecchiatura, che ha un valore di circa 20.000 euro, ha piccole dimensioni e può essere utilizzata anche senza allaccio alla rete elettrica. Può essere portato in sala operatoria o in terapia intensiva, ma anche direttamente vicino al letto del degente, da sottoporre all'esame. E' fondamentale sia per eseguire le diagnosi che durante gli interventi chirurgici. Le caratteristiche dell'ecografo completo di sonde lo rendono utile anche per un uso multidisciplinare. Questo consente quindi di metterlo a disposizione anche di altri reparti del San Benedetto. Quando il privato, dichiara il direttore generale Vincenzo Suppa, adotta iniziative che incontrano ed integrano le attività degli enti pubblici, si attiva un circuito virtuoso a tutto vantaggio della collettività. Sono certo che sul territorio vi saranno ancora iniziative di così grande generosità e che vorranno nuovamente privilegiare la nostra sanità.